Si è tenuto dall'11 al 13 marzo, presso il Poli Squash di Milano, uno dei centri più importanti in Italia, la quinta edizione dello Squash Camp World Enjoyer, magistralmente diretta da Neil McCarran e sotto legge da Xein. Presenti ben 20 giocatori provenienti da diverse regioni e addirittura 6 giocatori tra Germania, Lussemburgo, Svizzera e Irlanda. Nella sessione del venerdì il lavoro si è concentrato principalmente sulla tecnica. Sabato mattina routine con lungolinea, incrociati e boss e al pomeriggio giochi condizionati. Domenica invece dedicata al torneo prima squadre, poi individuale, maschile e femminile. Il corso rientra nell'importante progetto ministeriale NASC che ha facilitato il riavvicinamento di molti a questa splendida disciplina. Grazie per la visione!